La legge di bilancio affronta quelli che oggi sono i problemi principali degli italiani, cioè il carovita e la sanità. Sono confermati gli aumenti in busta paga, ci sarà un importante taglio delle tasse e un rinnovo dei contratti dei sanitari. Sul tema delle pensioni, per la Lega rispetto alle bozze uscite bisogna fare molto meglio.